Io ci tengo molto perché i bar e i ristoranti sono stati estremamente penalizzati, pensate solo a tutta la chiusura che hanno vissuto in zona arancione e in zona rossa e anche in zona gialla possono aprire solo per il pranzo. E quindi era giusto che questi 2.500 euro a chi ha avuto un documentato calo di fatturato, decideremo insieme in giunta se sarà un calo del 40 o del 50%, possa accedere a un bando che i primi giorni dell'anno diventerà materialmente conoscibile e tutti ci potranno con la loro documentazione accedere.